Eccoci qui ragazzi sono Goldrake e come vedete ragazzi oggi siamo qui ragazzi per fare il completo del volpino Ossia Goldrake signori della volpe, le volpi sono le migliori quindi dovete andare su le parti superiore Quindi parti superiori ragazzi andare in parti sopra sportive numero 34 e mettervi ragazzi la maglia da football grigia quindi numero 2 Poi ragazzi successivamente dovete andare nei pantaloni vediamo subito se li troviamo Dove sono i pantaloni raga? Ah dovrebbero essere qua quindi andiamo ragazzi ai pantaloni Ok andate su jeans e dovete andare a aspettate subito che troviamo il numero aderenti neri No sono aderenti a macchie blu ossia il numero 37 ragazzi il numero 37 Poi ragazzi una volta che siete andati al numero 37 dovete mettervi le scarpe quindi andiamo subito qua Eccoci qua proviamo le scarpe e sono scarpe di tela ragazzi quindi il numero 4 e andiamo al numero 7 di tela a scacchi Una volta ragazzi andati di tela a scacchi mettiamocela bisogna andare ragazzi agli accessori che anche gli accessori sono ragazzi molto e dico molto importanti Quindi andiamo agli accessori che dovrebbero essere qua se non sbaglio Ok provare gli accessori catenine ragazzi e dovete mettere la numero Vediamo se la trovo collana teschio oro numero ragazzi 38 quindi mettiamo la collana al teschio oro E infine ragazzi una volta messa la collana a teschio oro bisogna alla fine quindi di tutto ossia la parte forte del vestito ragazzi è la maschera Quindi ragazzi direi di vederci subito al completo della maschera Ok ragazzi siamo qua alle maschere e ora dobbiamo comprare la cosa più importante del nostro completo Andiamo a animali che è la prima che troverete e poi ragazzi dobbiamo andare non a volpe rossa ma a volpe marrone Quindi numero ragazzi ascoltate bene numero 29 e questo ragazzi clicchiamo e ragazzi cosa dire questo è il completo Guardate qua tutte le volpi tutte le volpi qua guardate quanto è figo raga quanto è figo Qua facciamoci una bella cosa una bella foto vediamo se riusciamo a farcela Mamma mia raga mamma mia comunque vediamo di farci un bel selfie Ok ragazzi guardate qua tutte le volpi mamma mia ragazzi la famiglia delle volpi Comunque vediamo di scattare la foto Guardate che belle tutte le volpi qua tutte le volpi guardateli grandissimi Ragazzi comunque dai questo è il nostro completo fatevelo tutti ragazzi a me piace molto Dunque questo video può terminare qui iscrivetevi se non vi siete iscritti Lasciate un pollicione in su noi ci vediamo al prossimo video Bella Ciao 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 Ciao